e ciao a tutti ragazzi sono sempre i magicono e questo è un gioco veramente uno dei migliori giochi che il mondo internet poteva mostrarci come possiamo vedere c'è un gatto a forma di palla che sta girando le palle in alto a sinistra e c'è un'altra palla che si muove e poi c'è un cane allora credito abbiamo i peggiori credito che abbiamo visto avanti dietro dietro iniziamo subito questo gioco da gay proprio gay ghi sono gay da tutte le persone oh no the 4chan hacker iso stacking we need the help hanno bisogno di aiuto i will find you you will regret it i am 4chan dobbiamo uccidere questo 4chan 4chan ragazzi sono ignorante non so ste cose oh no the 4chan hacker has sad dogs on us ma perché sto pure a leggere ste stronzate dai mamma mia mamma mia pro gaming livello 45 su 60 aiuto 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 già finito cosa sto buco nero i have implanted cioè e sono più lunghe le scritte da leggere che il gioco così we need the help to get i cazzo me ne freghi questo qua questo qui aiuto aiuto get back dai 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 cazzo il gioco ero che è tutti a me ho finito ho finito le armature aiuto ok ok spam lo spam rimbalza aiuto 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 bisogna andare con calma ragazzi che ama calo perché sono questo gioco rischi veramente di biamos riuscendo aiuto 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 gioco aiuto so justi video rotta aiuto aiuto ragazzi sale pazzo low no sceg Fiii vartu signifengine nella romania ma puoi buona buono Mamma mia ragazzi Ragazzi No Che cazzo è successo Top che Ma che cazzo sta succedendo Anonymous Aiuto Attenzione Attenzione Chi sono sti qua E mo che faccio Aiuto aiuto C'è un signore Dalla dubbio provenienza Finito Ma che cazzo me ne frega delle scritte Ma andiamo avanti Steam Ma ecco qui Andiamo a giocare su Steam Non funziona Ma arriva che non funziona Attenzione 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 Che cazzo No No Non dimmi che devo mettere qualcosa Magicolo Vaffan Ragazzi Poi non posso neanche uscire Perché c'è questa scritta No Si è bloccato tutto Si è bloccato tutto Bene Questo gioco è finito Come doveva finire Si è bloccato Grazie a tutti Grazie a tutti